7 gennaio 2013, ci troviamo davanti alla nuova sede della Cisle a Montichiavi, nella City, in zona via Paolo VI, di fronte all'ufficio del Giudice di Pace, sarà inaugurata i prossimi giorni, ma intanto vi facciamo vedere l'esposiva all'interno dei locali che si stanno allestendo in questo momento, con l'aiuto di alcuni volontari. Ecco qui, in un certo momento, in una data delle inaugurazioni. Anche in un certo momento, in un certo momento, in un certo momento. E' diventato uno degli amici importanti della provincia. E' diventato uno degli amici.